Buon sabato a tutti e benvenuti all'analisi del 22 ottobre, analisi settimanale sull'S&P 500 con la mia analisi evoluta. Cosa è successo? In apertura di settimana abbiamo fatto un aggiornamento del massimo, però con candela rossa, e seguita discesa e poi, wow, siamo ritornati a salire. Ovviamente abbiamo, come era previsione già con questa freccia, abbiamo fatto una ripartenza a rialzo. Perché abbiamo avuto però dei giorni in cui si è anche scesi? Per il fatto che per far partire un nuovo ciclo settimanale inverso, ovvero un ciclo che parte da massimi, scende su minimi e torna su massimi, bisogna rimanere sotto un certo massimo almeno per due candele. Noi siamo rimasti per tre e quattro, in realtà anche con quella verde. A questo punto, in violazione del massimo a 3762, avremo un settimanale inverso vincolato a rialzo, e quindi potenzialmente un ciclo che, se lunedì già andassimo sopra appunto il 3762, ci permetterebbe di aprire una posizione long per minimo un altro giorno, oltre a quello della violazione. Nella realtà, di fatti, noi ci stiamo concentrando, come vi dicevo, su questo massimo. Perché in violazione di questo massimo, può partire un ciclo molto più grosso di un mensile, e ci può essere una spinta molto più forte a rialzo. Però, appena ho iniziato a parlarne, abbiamo rinestato un po' la retromarcia, dopo che avevamo spinto veramente molto bene. A questo punto, cosa ci serve per far partire dopo un primo T3 trimestrale, che non sappiamo ancora esattamente se voglia essere un raccordo oppure un annuale, come dico ormai da tanti mesi, probabilmente, che è arrivato a Tonton Johnny, quindi ha fatto completamente un primo T3, può partire come minimo un mensile, e questo lo sappiamo già, come massimo un nuovo trimestrale. Per iniziare un trimestrale abbiamo bisogno, potremmo aver bisogno di una conferma data dagli swing, a quel punto però è importante anche andare a vedere a che punto siamo di inverso. Come vi dicevo, questa è la centratura più corretta, per ora qui 43 no, non è, formalmente lo è, ma questa è quella che dà maggiori certezze, e come detto già, in violazione di questo massimo, se avvenisse anche la violazione di questo, non vincoleremmo soltanto un settimanale inverso a continuare a salire fino all'ultimo giorno della sua durata, che potrebbero anche non essere sei giorni, ma essere otto, possono essere undici giorni della durata di un T inverso. Ma avremmo anche, con il superamento di questo massimo, un vincolo di inverso che ci porterebbe a ricercare massimi come minimo fino all'8 di novembre, in media andiamo a 32 barre fino al 18 di novembre e al massimo persino fino al 6 di dicembre. Chiaro? Ecco perché ho fatto la precedente analisi qualche giorno fa, per il fatto che questo è uno swing fondamentale. Se andassimo in violazione di questo, cambierebbe la strada principale, cambierebbe. Dovremmo optare non per l'annuale già vincolato a ribasso, ma per un raccordo pre-partenza di anche un biennale, anche perché un raccordo di grado T più 3 si colloca mediamente tra un biennale e un biennale. E se da qui partisse un biennale, vedrete che spinta avremo. Anche perché un biennale richiede che cosa per partire, dato che è un T più 6, richiede un T più 4 rialzista o laterale rialzista. Un T più 4 è un semestrale, un semestrale dura un minimo 96 giorni di tentativi di spinta, anche se fosse ribassista, prima di poi andare a scendere. Spero che dandovi questi numeri, anche se siete all'inizio dello studio dell'evoluta, dell'analisi ciclica di base e poi dell'evoluta, comprendiate in modo molto più semplice rispetto a quello che capitava a me di dover interpretare quello che ci si aspetta dall'S&P 500. Perché mi spiace se devo utilizzare dei termini come T, T più 2, inverso, cose eccetera, ma se ci si mette in mente che si vogliono avere dei risultati di trading, e questo è l'unico modo per fare le cose, ovvero non bastano 5 minuti al giorno, non basta poco capitale, non basta non saperne niente, quella è la propaganda che vi fanno magari prima dei miei video, serve studiare, come in tutte le cose, serve impegnarsi, volete raggiungere i vostri obiettivi nella vita? No pain, no gain, se non c'è il duro lavoro non si arriva a nessun risultato. Per cui, a parte il discorso sull'essere effimero del nostro successo, ritorniamo umilmente a ragionare di se però non si andasse qui sopra, perché ho visto gente già partire per la tangente e immaginare il lato destro, se invece si arrivasse qui, ma sotto questo, e poi si ripartisse con un secondo T più 1 inverso che magari spingesse anche di più, rimanendo per un tot di tempo qui sotto, quindi è disegnato male, facciamolo così, se si facesse un po' così, nulla lo vieta, io vi do, come al solito, un allarme estremamente importante da tenere a mente. Non vi sto dicendo adesso, vi sto dicendo, questo è uno swing fondamentale che ci dirà se questo è stato un raccordo che abbiamo tradato benissimo, nonostante sia un raccordo dove una finta rialzo con il basso, oppure se questo è stato è parte di un annuale ribassista che noi comunque abbiamo tradato nel breve molto bene. Perché un'altra delle cose che vedo che sfuggono a di haters soprattutto, piuttosto che chi arriva su questo canale da poco, è che mentre noi stiamo cercando di capire in quale delle due opzioni siamo, la guadagniamo. guadagniamo da operazioni di breve, guadagniamo prendendoci pochi rischi, facciamo meno operazioni magari degli altri, però siamo di nuovo su sei operazioni a cinque in guadagno forte e uno in piccola perdita. Quando arriveremo a dieci risiederemo la classifica adesso comunque diciamo che abbiamo ottenuto un valido risultato ecco ok per questo motivo torniamo ancora sul grafico a 15 minuti primo ciclo giornaliero secondo ciclo giornaliero che che bisogna lavorare un po' sull'elasticità delle regole che sono quelle ma quando c'è tendenza può esserci meno di un T-5 rialzista questa roba qua non mi piace vi devo dire la verità però non è che posso inventarmi un qualche cosa di differente qui qui può essere appunto 24 barre qui solo 3 candele un pezzo sopra comunque così torna ok e ricordiamoci sempre una cosa che a monte di tutto qual è il nostro obiettivo perché il nostro obiettivo se il nostro obiettivo è quello che era quello degli analisti di un tempo di fare la migliore centratura ma poi a trading lo facevano non lo facevano non lo so ok benissimo alambiccatevi se invece la cosa che vi interessa di più è guadagnare questo è già parte del passato e ci sta come tempo adesso ragioniamo su cosa può succedere perché qui abbiamo bene un rischio di vincolo di movimento rialzo bel rischio direte voi abbiamo violato lo swing per la partenza di un t settimanale da qui perché qui sarebbe anche 8 9 10 11 ma qui ci sta 11 candele ci stanno siamo eventualmente a massimo 11 candele con questa no dovremmo dovremmo stracciare con un settimanale inverso più un raccordo di grado t meno 3 inverso tra due settimanali ci può stare ok e comunque mettere tanta carne al fuoco che è una cosa che ha senso fare quando si esperienza perché bisogna sempre pensare a una centratura alternativa rispetto a quella che sta funzionando che sta funzionando e non che non funziona che sta funzionando però se all'inizio iniziate a ragionare solo di raccordo in continuazione non vi muoverete mai più non farete più niente perché potreste pensare che sì l'operazione potrebbe essere giusta ma se è un raccordo e allora non mi muovo mai quindi i raccordi sono cose che capitano ma guardate all'interno di questo grafico quante volte 1 2 ok 2 su quanti giorni orientativamente scusate facciamolo bene il lavoro ok 1 2 3 4 ok 4 raccordi in 221 giorni quindi statisticamente ragionate senza raccordi vi conviene tenendo conto che può esserci va tutto bene ok può esserci ma che ce ne sono 4 di raccordi su 221 giorni quindi gli raccordi metteteli da parte e ragionate in maniera più semplice possibile più ottenente le regole possibili per cui allarme se si va qui sopra si continuerà a salire per tutto il resto del mensile inverso minimo 24 giorni e noi ne abbiamo consumati soltanto 12 se non andremo lì sopra e andremo a chiudere comunque il primo T più 1 senza superare questa linea qua riavremo una discesa e questo potrebbe essere uno dei percorsi dei tanti percorsi che ci sono per cui il punto da tenere ben chiaro d'occhio con un allarme è questo questo swing a 3806 poche altre cose perché qui è partito da poco il secondo T dovrebbe fare almeno un giorno eventualmente a galleggiare in questo spazio e poi se eventualmente si andasse sotto i 3647 dollari si potrebbe valutare uno short ma in questo momento le percentuali non sono altissime nel senso che comunque abbiamo un primo movimento che è un settimanale che non sappiamo neanche se si è chiuso effettivamente qui perché si swing si tutto quello che volete ma nella realtà dei fatti non abbiamo il tempo abbiamo un giorno potrebbe essere la candela 7 di questo mensile nuovo e quindi siamo troppo indietro per iniziare a fare troppe congetture iniziamo a tenerci buono questo swing di massimo in modo da ragionare per eventuali long la conseguenza della non violazione la conosciamo bene vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata arrivederci